Restiamo a Crotone, proseguono le visite organizzate dagli istituti scolastici presso il gruppo Marrelli. Questa volta è toccato all'istituto di istruzione superiore Petrucci Ferraris Maresca di Catanzaro, che ha preso visione delle strutture all'interno dell'omonima cittadella sorta a Crotone in località Passovecchio. Gli alunni accompagnati dai docenti Rita Pane, Concetta Papaleo, Anna Rita Giovanna Furciniti e Giuseppe Rosanò hanno ascoltato con attenzione gli interventi di Vincenzo Panaia, direttore di Calabrodental, che ha relazionato sulla genesi del gruppo e sulla gestione. Marco Tatullo, direttore di Tecnologica Research Institute, che ha illustrato le nuove frontiere che il gruppo cerca di raggiungere con le studio sulle cellule staminali. Omar Lorenzoni, tecnico dentale, che ha prospettato e illustrato tutte le fasi delle lavorazioni che si effettuano in materia di protesi dentaria. Il folto gruppo di studenti, formato da 37 elementi, ha concluso il tour a Esperia TV, visitando gli studi, la regia e tutto quello che gira intorno ad un'emittente televisiva.